Ebbene, l'uragano Ophelia, di cui tanto si sta parlando in questo periodo in cui ci troviamo a vivere, pensate che avrebbe perso un po' di potenza verso l'Europa, ma non abbastanza da essere deglassato a tempesta. L'uragano Ophelia, che viene stimato di categoria 1, infatti è potenzialmente ancora devastante ed ha raggiunto il nuovo continente, o meglio, il nostro continente, l'Europa. Infatti, forti venti ci sono stati, incendi in Portogallo, in Galizia. L'uragano dovrebbe raggiungere in queste ore le coste dell'Irlanda a ciclisti e motociclisti. Infatti è stato posto il divieto di percorrere le strade in vista di eventi che potrebbero arrivare addirittura ai 130 km orari. L'arrivo per l'Irlanda, vi ricordo che è atteso per questa mattinata di oggi, 16 ottobre 2017. Prima però potrebbe deglassarsi a tempesta post-tropicale, quindi dopo post-tropicale. Però un famoso meteorologo inglese, di nome Luke Mule, avrebbe detto che potrebbe portare con sé dei venti pari agli uragani, però con violente piogge, con raffiche di vento, ma anche con turbulenze. Il livello è stato aumentato, ripeto, da un livello arancione ad un livello rosso per tutto il paese. Soppressa anche però la maggioranza, quindi la quantità maggiore di traghetti tra l'Irlanda proprio e l'intera Gran Bretagna. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la gentile visione. Il video termina qua, dunque cautela totale perché una situazione di questo tipo, secondo me, non è buona, non è di certo positiva, secondo la mia opinione. Grazie, un saluto, dunque loro che fanno poi loro che fanno felia sull'Irlanda, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto e a presto.